L'entroterra è una location che può dare tante soddisfazioni, abbiamo avuto tantissimi contatti, c'è interesse verso quello che sono le prerogative dell'interno delle marche, quindi passeggiate, natura, mountain bike, possibilità di luoghi aperti, quindi in questo momento che ancora il riverbero della pandemia si sente nella coscienza collettiva, ci proponiamo come luoghi di interesse, stiamo lavorando per formare un consorzio che è nato alla BIT e sta andando avanti con tutti i comuni della montagna dei Sibillini e presto lo proporremo anche come offerta turistica, quindi siamo sul pezzo e abbiamo avuto un'ottima estate, tante presenze, tanti stranieri, contiamo anche dagli appuntamenti che abbiamo avuto qui di avere stagioni ancora migliori e di riuscire in quello che è il nostro attuale intento, cioè la destagionalizzazione, siamo arrivati ad avere un settembre che è più simile ai numeri di luglio che non di giugno e quindi è un'ottima cosa, però stiamo lavorando su quei mesi un po' morti che possono essere ottobre, novembre da una parte e dall'altra marzo e aprile, quindi faremo delle attività in maniera tale da indurre i turisti a venirci a trovare. Da noi la sostenibilità già c'è, quindi abbiamo puntato su quelle che sono, che è la natura, su quelle che sono i percorsi, su quelle che sono il bike e quindi già siamo sostenibili, abbiamo avuto un ottimo riscontro anche dai camper, che è una nuova attività perché abbiamo aperto un'area a sosta camper con i fondi sisma, quindi il sisma che non pensa solo alla ricostruzione ma pensa anche all'economia dei territori, sta andando bene anche quello, quindi c'è questa attenzione e dobbiamo migliorare i nostri servizi. Le marche, la declinazione al plurale di questa regione è piena di scrigni, è piena di borghi, è piena di piccoli comuni, è piena di eccellenze, le eccellenze come le bandiere arancioni, i borghi più belli d'Italia, Mercatello ha tutti e due i marchi, io sono anche il coordinatore regionale per le bandiere arancioni, quindi è un onore essere a questi eventi, a questi eventi dove riusciamo a far vedere all'esterno cosa sono i nostri piccoli borghi, i nostri piccoli scrigni. Molte volte si conosce la costa e si fa fatica ad arrivare nell'entroterra, a volte abbiamo quei 30-40 km di curve, quelle famose curve che ci contraddistinguono tra il caos e la tranquillità, quindi siamo onorati di essere qui. Ci sono tanti progetti, a livello comunale stiamo portando avanti da diverso tempo il burgo delle Sante, Mercatello sul Metauro è uno degli unici paesi sotto i 5.000 abitanti che ha due Sante che sono nate nel proprio territorio, quindi è un valore aggiunto anche per portare avanti il turismo religioso che è una piccola nicchia del turismo ma che crea tanto movimento. A livello invece di bandiere arancioni per la regione Marche stiamo portando avanti un progetto social che ci sta vedendo partecipi insieme ai borghi più belli d'Italia e questa sinergia sta permettendo a queste due realtà certificate, che ricordo che sono le uniche due realtà certificate per i borghi dell'entroterra, ci sta portando a un'evidenza nazionale, quindi portiamo anche i piccoli borghi, ma a volte paesi, penso a Frontino che è il più piccolo, paesi di 340 abitanti a livello nazionale e sui tavoli nazionali dove si decide il futuro del turismo. Da diversi anni Treia fa parte del club dei borghi più belli d'Italia, attualmente in tutta l'Italia sono circa 330 borghi e all'interno delle Marche sono 30 con l'ultimo ingresso di Arcevia. Treia è un paesino della media marca che si trova a 30 chilometri dal mare e a 50 dall'Appennino. Abbiamo un turismo che non è marittimo, non è un turismo di montagna e quindi per questo dobbiamo essere attenti a chi viene nei nostri borghi, nel nostro borgo, a dare quei servizi e offrire quelle eccellenze che magari in altre realtà più grandi e più massive non vengono valorizzati. Gradara è presente al TTG Travel, la fiera di Rimini, forse una delle fiere più importanti per il mondo del turismo. Noi siamo qui a proporre ovviamente le bellezze di Gradara, la Rocca, i camminamenti di Ronda, tutta la destinazione della riviera del San Bartolo, ma soprattutto i nostri prossimi eventi che riguardano ovviamente Halloween, una festa bellissima dedicata a tutti i bambini e il Natale che non ti aspetti. Poi siamo pronti per il 2023. Sono circa cinque anni che stiamo lavorando sulla destagionalizzazione, stiamo creando anche pacchetti che portano il turista soprattutto nella nostra zona che noi siamo al mare, quindi per portarli anche durante l'inverno e fargli conoscere tutto l'Interland che è pieno di eventi folcloristici, associazioni che insomma offrono anche particolari tipi di piatti come il tartufo che comunque sono dei prodotti tipici locali come il vino e quindi cerchiamo anche con queste proposte che facciamo di farli venire anche durante l'inverno. Adesso stiamo puntando molto su un tipo di tour che si chiama geocaching che è una caccia al tesoro interattiva che facciamo con il telefono sia per adulti che per bambini da fare a piedi in bicicletta e con questo geocaching vanno in giro per la città e speriamo per le marche a scoprire un po' il territorio cercando questi indizi e nel frattempo imparando qualcosa di più sul nostro territorio.